E' pardia, porca delle mosche Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 No, no, su Facebook, c'è che informa e basta. Non c'è da fare più. Ah, solo c'è informa? Sì, se stai su Facebook, c'è che informa. Lo trovi subito. Sì, se stai suonando. Sì, se stai suonando. Sì, se stai suonando. Grazie. 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 Grazie.